E' molto buono, non posso ridurlo, anzi dopo poi quando c'è lì Chiara Ciuffini, Faenza ti porta bene su questo traguardo sempre prima? Sì, su questo stupendo traguardo qui a Faenza, un secondo successo ed è veramente bellissimo Chiara, sei arrivata a trentesima assoluta, questo è un bel messaggio per i maschietti, attenti alle ragazze Sì, è stata una corsa molto dura e tirata, ringrazio mio compagno Manuel Martinello che mi ha portato sempre al meglio in questa corsa Chiara, ogni vittoria naturalmente tu porti nel cuore la tua città Sì, sempre, sempre perché noi continuiamo a lottare per cercare di rinascere anche se è molto difficile Spero che comunque anche grazie a me qualcuno si ricordi dell'Aquila Grazie